Siamo con Diana, capitano del Velletri, era una partita molto difficile sulla carta, lo si è rivelato anche nella realtà. Voi avete iniziato molto bene la gara con molti di rimporta, poi vi siete un po' disuniti quando siete passati in svantaggio. Sì, sapevamo già dall'inizio che era una partita molto difficile perché loro comunque sono una buonissima squadra e lo dimostra anche la classifica. Siamo partiti abbastanza bene con varie occasioni da gol, il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe, abbiamo provato a reagire, ci stavamo anche riuscendo ma su degli errori nostri è arrivato anche il raddoppio. Loro, ripeto, sono una buona squadra e quando vai sotto i due gol è difficile recuperare una partita del genere. Con quali obiettivi siete partiti in questo campionato? Volevate essere in vetta la classifica a questo punto della stagione per tentare di arrivare in C1 oppure volevate fare un campionato di contenimento? Come avete visto anche voi, siamo una squadra abbastanza giovane, con l'età media tra i 22 e i 23 anni, abbiamo giocato 4 anni insieme. Sappiamo che le potenzialità ci sono, però noi stiamo giocando partita dopo partita, cercando di vincerle tutte quante. Finora stiamo dimostrando che abbiamo un buon gioco e possiamo rimanere lì sopra e vogliamo rimanere lì sopra. Siamo con un altro protagonista di questa fantastica sfida, Franzio Lavigno e Velletri, siamo concorsi. Insomma è stata una gara che voi avete iniziato non benissimo perché il Velletri vi ha messo in enorme difficoltà, poi avete preso le contromisure, siete stati esiziali in attacco e molto concentrati e attenti in difesa. Sì, è stata una partita all'inizio molto difficile perché comunque Velletri ha dimostrato comunque la classifica che ha e quando abbiamo trovato appunto la quadratura siamo riusciti a cominciare a ingranare il gioco e siamo riusciti ad andare in vantaggio per metterci la partita in discesa. Dobbiamo dire che prima di questa gara voi avevate la migliore difesa del campionato, continuate ad averla, avete subito soltanto 14 gol, è lì la chiave dei vostri successi? Sì, come si dice infatti la difesa è il migliore attacco appunto, stiamo subendo pochissimi gol e comunque in attacco siamo abbastanza cinici e prolifici e appunto la difesa è proprio la chiave per vincere la partita. Daniele Moncada è stato anche lui autore di una partita davvero molto molto ben giocata, una gara che si è messa non benissimo perché all'inizio comunque avete subito la pressione del Velletri, man mano che passavano i minuti però siete cresciuti, avete imposto la vostra personalità. Sì, sappiamo che comunque il Velletri era un'ottima squadra, comunque il mister già all'inizio dentro l'ospedale ci aveva detto di aspettare bassi per ripartire in ripartenza, perciò le azioni sono andate pure per questo motivo che noi ci siamo difesi bassi. Dobbiamo dire che i tuoi compagni ti cercano spesso perché la tua regia è sempre stata attenta, ordinata e hai comunque propiziato sempre diverse occasioni da gol, anche alla fine insomma sei riuscito quasi a toglierti una bella soddisfazione perché comunque hai suggerito l'assist che poi è stato trasfermato in gol dal tuo compagno di squadra. Questa è la chiave diciamo di lettura offensiva nel senso che il tuo allenatore dice espressamente a te di costruire insomma spesso le azioni offensive. Sì, infatti purtroppo anche l'età mi dice da rimanere un po' dietro, però comunque sì, impostiamo sempre da me perché comunque il sinistro ci sta e i compagni li cerco sul secondo palo, come li vedo libri io cerco di fare il possibile.